Canicattì più cinico del Don Carlo, vince di misura e si porta in piena zona play-off. È bastata la rete di Francesco Maggio, una delle sue solite punizioni che, come accade spesso, i portieri avversari nemmeno vedono arrivare. Un bolide da 35 metri, preciso opportuno, che ha regalato i tre punti ai biancorossi, che ne avevano davvero bisogno per risalire la china. Si è giocato in un campo, fondo sterrato, come l'omonaco di Palermo, che per i giocatori canicattinese è un nemico, essendo abituati a calcare i campi in erba. Condizioni proibitive al limite della praticabilità, ha commentato l'allenatore del Canicattì, Pippo Romano. Fino alla fine i nostri avversari hanno spinto per cercare il pareggio, ma i miei ragazzi sono stati molto più determinati, i cinici ci hanno creduto fino alla fine, ed hanno ottenuto un buon risultato contro un ottimo avversario. Il Canicattì ha meritato di vincere, però non fosse altro per il rigore che Taormina non è riuscito a trasformare. La squadra, anche se non abituata a questo tipo di fondo, peraltro si doveva giocare a ribolla, invece alla vigilia si è cambiato in pianto sportivo, ha espresso un buon gioco. Con Angelo Caronia, ancora una volta ammattatore del match, un po' davanti ci siamo alzati come centimetri, ha aggiunto il tecnico Biancorosso. Non potendo sviluppare azioni da dietro, dovevamo far giocare su una seconda palla per cercare la punta centrale. Ho fatto entrare Gargiulo, l'attaccante argentino ne è arrivato tra le file del Canicattì, per avere centimetri davanti. Ci ha dato fisicità, abbiamo giocato meglio rispetto al primo tempo. Giocare su questa superficie è impossibile, non si vede il bel gioco, si vedono solo questo tipo di partite, ricche di agonismo, ricche di intensità. Romano, infine, parla del futuro. Abbiamo una buona squadra, ma non abbiamo continuità nel gioco, perché in casa giochiamo meglio che quando andiamo in trasferta. Questi tre punti non sono solo importanti per la classifica, ma anche per il morale.